Siamo presenti anche quest'anno alla fiera di Cremona, una fiera che ci sta dando delle grosse soddisfazioni. Quest'anno come fama vi presentiamo una novità importante che è il 605 Noz, un prodotto specifico per robot di mungitura che nasce da una tecnologia particolare partendo da avere un pellet molto duro e consistente e soprattutto basso di polvere che è la cosa fondamentale per averlo nel robot di mungitura. Siamo contenti di questa manifestazione, pensiamo di ripeterci ulteriormente anche negli anni successivi con la speranza di avere sempre dei risultati maggiori e di proseguire in quelle che sono le nostre filosofie e il nostro modo di operare.